FIENZE Con un patrimonio artistico dal valore incalcolabile che racconta più di 2000 anni di storia della nostra civiltà, Firenze è universalmente riconosciuta come capitale mondiale dell'arte. E da oltre 20 anni, l'ente cassa di risparmio di Firenze offre il proprio determinante contributo per la conservazione e la valorizzazione di questa immensa ricchezza. La vicinanza dell'ente cassa alla comunità cittadina si ritrova come elemento centrale nei criteri di scelta dei progetti, delle opere e dei luoghi da salvaguardare. Soggetti rappresentativi dello spirito della popolazione che dà anima a questa grande città. Come la loggia del Bigallo, costruita nella seconda metà del 1300 e sede della storica Compagnia della Misericordia. Utilizzato per l'accoglienza e la cura degli orfani, dei pellegrini e dei viandanti, l'edificio è da sempre nel cuore della cittadinanza. Ma l'aderenza allo spirito della comunità è sempre affiancata da uno sguardo che tiene conto del valore artistico dei progetti sovvenzionati. Alcuni tra i più grandi artisti della storia, come Donatello, Ghiberti e Paolo Uccello, hanno firmato il più grande programma di arte vetraria italiana del Rinascimento. Delle 44 vetrate presenti nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, 11 nell'arco di 15 anni, sono state restituite al loro originale splendore grazie al supporto di Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Operare sul patrimonio artistico di Firenze è un compito di rilevanza internazionale. Ne è una testimonianza tangibile l'immenso lavoro svolto sugli arazzi cinquecenteschi, commissionati da Cosimo de' Medici per il Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. 27 anni di studi appassionati, di meticolose ricerche e di restauro attivo sull'opera hanno formato nuove preziose competenze, oggi apprezzate e richieste in tutto il mondo. La visione internazionale dell'Ente Cassa passa anche attraverso il sostegno dato alle più importanti istituzioni artistico-culturali fiorentine, famose ovunque nel mondo. In un frangente storico in cui Firenze e il suo patrimonio artistico sono universalmente riconosciuti e apprezzati, è il momento per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze di poter offrire le proprie competenze e sostegno a favore della comunità internazionale e aprirsi letteralmente al mondo.